Grandissima vittoria della Commissione Attività Produttive del MoVimento 5 Stelle. Ieri, nel Decreto Destinazione Italia, è stato approvato un nostro emendamento che aiuta effettivamente e concretamente imprese e liberi professionisti. Verranno sospese le cartelle esattoriali di chi vanta dei crediti dalla pubblica amministrazione. È l'uovo di Colombo, ma, guarda caso, nessuno ci aveva mai pensato prima. Le nostre imprese non chiedono né elemosina e nemmeno favori. Chiedono di operare in un contesto giusto e, soprattutto, che gli venga riconosciuto tutto il dovuto. Adesso la palla passa al Ministero, che ha 90 giorni per concretizzare la cosa tramite un decreto attuativo. Noi del MoVimento 5 Stelle vigileremo e staremo col fiato sul collo del Governo. Allora, io ho un'ottima, ma, guarda. Allora, io ho un'ottima. Allora, io ho un'ottima. Grazie a tutti